Sono Elettra Marconi, figlia del padre della radio Guglielmo Marconi. Ringrazio moltissimo il Museo della Radio della città di Verona e il sindaco Federico Sboarina, per non dimenticare il nome di mio padre. Il Museo della Radio a Verona è in possesso dell'antenna circolare presente sul panfilo Elettra. Dalla quale papà sviluppò la comunicazione senza fili.